Cos'è la paralica? La podolica è tanto, è natura, è filosofia, è produzioni, è territorio, è storia, è insieme a tante altre cose patrimonio della nazione e non soltanto. Un patrimonio nazionale da salvaguardare. Rocco Giorgio, impiegato lucano, fotografo per hobby, definisce così la mucca podolica, da sempre protagonista dei suoi scatti decennali realizzati nelle campagne di Basilicata, Puglia, Calabria e Campania. Queste foto sono diventate un libro ed una mostra in esposizione a Roma dal 3 al 12 marzo al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. L'iniziativa organizzata con il patrocinio del Di Castero è stata promossa dalle associazioni degli allevatori e dalla regione Basilicata. Quest'ultima, approfittando di un territorio incontaminato, ha investito sul podolico, considerandola una razza di grande pregio che, potenziata e difesa, può diventare una risorsa per il territorio. Le mucche allevate allo Stato Brado offrono infatti prodotti di qualità da proteggere con politiche specifiche utili anche alla salvaguardia dell'ambiente e dell'intero comparto agricolo. L'agricoltura, in questa fase di revisione profonda dei processi produttivi, di revisione dei modelli di sviluppo, è un fattore strategico per stipulare un nuovo patto con la natura e con la società e quindi per rispondere anche agli appelli degli scienziati e del Papa a salvare il pianeta e salvare il creato.